buongiorno scende anche lei tre tette sembrano proprio uguali se c'avevo anch'io il buchettino sembrava nuovo la terza vabbè è una battuta in ascensore non si può mai parlare volevo un attimo abbattere questo vabbè devi fare la figa di legno che non risponde neanche oh mamma mia che maleducazione ma mi dici oh che cazzo vuoi scusi è il piano a terra questo? si che strani tasti grazie eh ciao 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 ciao